In questa lezione faremo una introduzione ad una importante regolazione nuova messa a disposizione con Photoshop CS5 e dedicata alla fotografia in HDR, ovvero quel genere di fotografia detta ad alta gamma dinamica dove vengono fatte più esposizioni a forcella in modo tale da poter essere rimontata in Photoshop e in modo tale che il software possa sfruttarne l'intera gamma dinamica. La novità sta nel fatto che con la versione CS5 di Photoshop questo meccanismo, questo effetto sostanzialmente che viene applicato alle immagini in HDR, essendo molto di moda, è diventato uno strumento applicabile a qualsiasi tipo di immagini, JPEG o TIFF che siano. Dunque, vediamo come poter simulare un effetto HDR su un'immagine normale come questa andando a richiamare il comando che stiamo descrivendo. Dal menu Immagine vado in Regolazioni e scelgo la nuova voce Viraggio HDR. Mi si apre questa finestra di dialogo e viene immediatamente applicata una regolazione predefinita. Potete notare subito come anche questa finestra di dialogo contenga il solito menu a comparsa con le varie impostazioni dette predefinite. Ritorniamo alla situazione iniziale. Premetto subito che non scenderò nel dettaglio di ogni regolazione proprio perché verrà fatta una descrizione particolareggiata in una delle prossime lezioni relativa proprio alla fotografia in HDR, ovvero ad alta gamma dinamica. Vediamo solo rapidamente come questa nuova regolazione di Photoshop CS5 possa ricreare un effetto particolarmente interessante anche su semplici JPEG. Una volta che abbiamo richiamato il comando vediamo come esistono diversi cursori sul contrasto localizzato e come sia possibile lavorare su altri concetti come esposizione, gamma, vividezza e saturazione del colore. Ecco, questo effetto finale che potete notare su una semplice immagine non su una serie di immagini HDR è sicuramente molto simile al risultato che si ottiene con la fotografia in alta gamma dinamica. Ovviamente è soltanto un effetto che può essere applicato quando per esempio non si è avuta l'occasione di poter scattare in alta gamma dinamica con più esposizioni. In questo caso, prima di concludere, vediamo ancora velocemente il prima e il dopo e vi rimando ad una delle prossime lezioni per la descrizione dettagliata di ogni singola funzione all'interno di questa finestra di dialogo. Per ora è sufficiente considerare questa nuova regolazione di Photoshop CS5 come una simulazione della fotografia in HDR che può essere applicata semplicemente su qualsiasi tipo di immagini anche un JPEG.